Ciao, sono Omar dell'Hotel Ambasciatore di Riccione, è una struttura in prima linea sul lungomare. Abbiamo optato per Hotel CC in quanto presenta delle funzionalità e a livello grafico lo reputiamo decisamente superiore agli altri. Ci tiene monitorate tutte le richieste che riceviamo durante l'arco dell'anno e soprattutto ci aiuta a organizzare il lavoro per poi avere degli obiettivi ben definiti. Segmentando tutte le richieste che ci arrivano, suddivise per vari tag e vari settori, riusciamo poi a fare delle azioni di marketing molto mirate. La gestione delle richieste è molto più immediata e molto più veloce. Il gestionale di Hotel CC ci aiuta tantissimo a livello grafico, proprio a un impatto che è immediato, quindi le richieste sono gestite a cascata dal momento della richiesta di prenotazione fino al check out e al bentornato a casa. È tutto sempre ben visibile, quindi riusciamo sempre a tenere sotto controllo tutte le richieste che stiamo gestendo, che abbiamo già gestito e possiamo interfacciarci con loro in qualsiasi momento grazie alla chat interna che prevede Hotel CC. Sì, mi sentirei assolutamente di consigliarlo, penso che sia uno strumento che non deve mancare a nessun albergatore appunto. I motivi sono diversi, uno è sicuramente il fatto di diminuire i tempi di gestione richieste, un altro è il fatto di avere la possibilità di creare un pacchetto clienti che ci permette di crescere sicuramente e di definire degli obiettivi nel tempo e quindi andare a fare delle azioni su questo pacchetto clienti ben sezionato. Un'altra è sicuramente che abbiamo anche la gestione di tutte le richieste in lingua avendo caricato tutti i vari template, poi la presentazione delle offerte penso che sia ben definita quindi con i punti di forza dell'hotel sempre in primo piano quando il cliente visualizza l'offerta e quindi l'immediatezza che ci dà questo programma ci permette di avere più tempo da dedicare uno ai nostri clienti e anche a noi per sviluppare meglio altri lavori.